E ciao a tutti i farmer, spero tutto bene. Siamo qua nel nostro bellissimo podere Enke, in Bresciano ovvero oggi, per fare un bel trattamento ai nostri pomodori. Infatti dopo aver preparato il macerato d'ortica, se ti sei perso il video di essere uscito 15 giorni fa, oggi proviamo applicarlo alle piante, piante di pomodori e se avanza qualcosina glielo diamo anche alle zucchine. Il macerato d'ortica è un'ottima soluzione contro cimici, insetti, afidi. Le mie piante non sono ancora malate né attaccate da cimici o da afidi o insetti vari, però visto che è una lotta biologica voglio prevenire e quindi gli faccio il trattamento, trattamento che appunto ha la funzione di prevenire. Vi consiglio a metà stagione di fare sempre un trattamento col macerato d'ortica, per evitare dopo di dover fare trattamenti molto ma molto pesanti, incisivi, perché avete una situazione incontrollabile, soprattutto con gli afidi. Ti ricordo anche che il macerato d'ortica è anche un ottimo fertilizzante, quindi oltre a darlo alle foglie cerchiamo di darlo anche al terreno. Ora vieni che ti faccio vedere come preparare le dosi per il macerato d'ortica, lo diamo e facciamo la conclusione. Vediamo ora le dosi per il macerato d'ortica. La prima cosa che voglio dirti è che il macerato d'ortica puzza veramente un sacco. Il macerato d'ortica sa di cadavere, è proprio forse per quello che allontana praticamente tutti gli afidi e insetti, quindi se lo fate in casa coprite bene perché la puzza è tante. Io lo sto facendo molto ma molto distante, quindi posso tenerlo anche aperto, però insomma non è il top. Allora come vedete qua abbiamo un boccettone, che cos'è? È macerato d'ortica concentrato, non è quello che ho fatto io. Quello che faccio io è un attimino più liquido, quindi uso una dose per ogni litro, mezzo litro di macerato d'ortica. Questo qua è uno che si trova in commercio, ho voluto testarlo perché molti di voi mi stanno chiedendo appunto, visto che non stanno ad andare a prendere l'ortica, se si può acquistare. Qua c'è scritto che per 10 litri devo metterne 0,5, quindi qua ne aggiungeremo circa 1-700 grammi, più o meno. Quindi, perché sono più o meno 15 litri d'acqua. Quindi, ah, che schifo. Lo aggiungiamo. Guardiamo. Ancora un goccio. L'odore è veramente acre, quindi quando lo fate, fattelo in fretta. Ho fatto 15 litri perché lo useremo sia per il trattamento foglie di pomodoro, foglie di zucchina. Tra parentesi, la zucchina con l'ultimo trattamento che abbiamo fatto contro un albianco sta guarento, dovremo fare l'ultimo trattamento, però gli diamo comunque una passata comunque di macerato d'ortica. In più il rimanente lo verserò come fertilizzante nel suolo, proprio per fertilizzare al meglio le foglie. Quindi cosa facciamo? Prendiamo sempre la nostra mitica pompetta, filtro sempre dentro, mi raccomando. Il macerato d'ortica tende, anche se ben filtrato, a sporcare un po' la pompetta, quindi mi raccomando, state attenti. Togliamo anche tutte le cose dal filtro e mettiamo dentro il nostro macerato. Perfetto, raggiunto il limite. Quindi chiudiamo il tappo a dare il nostro macerato ai pomodori. Perfetto, raggiunto il limite. Grazie a tutti. Il macerato d'ortica è veramente un toccasano, ve lo consiglio a tutti. Mi raccomando, potete, come avete visto, farvelo voi oppure potete comprarlo già concentrato in internet. Come hai visto in questo video, ho testato un macerato d'ortica già preparato, proprio perché molti di voi mi hanno detto, ma io non so dove andare a prendere l'ortica. Io ce l'ho, fortunatamente, quindi non mi serve, però capisco l'esigenza di uno che vuole fare l'orto e non ha l'ortica in casa e in giardino. Quindi spero che il video ti sia piaciuto. Ti chiedo di mettere un bel mi piace, commentare qua sotto, iscriverti al canale e condividere il video. Sono le uniche quattro azioni che ti chiedo. E detto questo, niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!